il pro de mannelli colpisce ancora ovviamente l'obiettivo della matita armata del fatto quotidiano non può non essere matteo salvini l'estate si avvicina la spiaggia piure nella redazione del direttore marco travaglio sentono già profumo di mojito e così dagli al leader della lega sbattuto in prima pagina pancia al vento e bermuda floreali il tono è di dileggio le fattezze deformate petto nudo e sopra la giacca d'ordinanza da senatore la cravatta e sotto a far capolino un bel croce fisso insomma ci sono tutti gli elementi per una bella palata di fango al fatto si sa quando si tratta di parlare del centrodestra e di salvini in particolare non vanno tanto per il sottile talvolta i ragionamenti politici sono fatti con l'accetta come quando si tratta di prendere questo quel pezzo di verbale o intercettazione spararlo in prima pagina giusto per attaccare il nemico sono ragazzi bisogna capirli e lo stesso mannelli non è nuovo a vignette decisamente truculente in quella pubblicata in prima pagina mercoledì 9 giugno per esempio salvini ragionando deduciamo noi su federazione di centrodestra governo maggioranza e riposizionamenti chiarisce il suo pensiero stiamo qua indica con la mano destra e anche qua con quella sinistra sotto la chiosa illuminante di mannelli e presumiamo travaglio qua qua e ogni riferimento al ballo e alle paperelle vista anche la mise balneare del leghista è voluto grazie a tutti grazie a tutti